Convegni, conferenze, workshop, mostre e spettacoli. Il programma autunnale commemorativo della Grande Guerra pone Vittorio Veneto in primo piano nel carnet degli appuntamenti previsti per il ricordo del primo conflitto mondiale. 24 appuntamenti in meno di due mesi nella città, medaglia d'oro e croce per l'esercito con il clou dell'iniziativa il 4 novembre, quando anche il noto Museo della Battaglia sarà aperto straordinariamente sia al mattino che al pomeriggio e l'ingresso sarà gratuito. Vuole diventare un po' un centro di cultura e di documentazione sul tema della Grande Guerra perché oltre ai reperti esposti ne abbiamo moltissimi, ma veramente moltissimi, nei depositi che adesso anche attraverso i finanziamenti pubblici in qualche modo cerchiamo di registrare, scansionare e in qualche modo mettere a disposizione di studiosi di quanti possono essere interessati a questo argomento. L'amministrazione comunale di Vittorio Veneto ha stilato il programma valendosi di collaborazioni qualificate fra queste anche quella con lo Stato Maggiore dell'esercito. Il Comune di Vittorio Veneto ha istituito il premio Vittorio Veneto Città della Vittoria dedicato al riconoscimento di particolari meriti professionali di militari dell'esercito italiano sia nelle missioni di pace, sia nelle attività di bonifica e di salvaguarda del territorio dalle calamità naturali. Come moriamo la Grande Guerra, dice il Sindaco Roberto Tonon, con un occhio rivolto alle giovani generazioni e quindi al futuro. Ai giovani studenti è stato perciò riservato il premio Vittorio Veneto dalla Vittoria alla Pace. Il riconoscimento sarà assegnato a Milovan Pizarri con la tesi I crimini contro la popolazione civile in Serbia durante la Prima Guerra Mondiale, durante la cerimonia che avrà luogo il prossimo 29 ottobre al 18 nell'Aula Civica del Museo della Battaglia. L'intenzione dell'amministrazione è di sottolineare come cent'anni fa ci sia stata la guerra e lo slogan nostro è la vera vittoria e la pace. Questo è quello che ci auguriamo ovviamente non solo per la nostra città ma per tutta l'umanità.